Abbandona i libri del destino in Book Crossing Abbandonare è un reato, sicuramente è un reato, ma c'è un'eccezione Abbandonare i libri in Book Crossing, abbandonare i libri di cinema, quello non è un reato Adottateli e abbandonateli, voi li potete adottare e abbandonare E non sarete condannati, ma sarete benedetti